Oggi parleremo di MENAS, cioè il Matchbox Educable Notes and Crosses Engine. Parliamo di intelligenza artificiale. Si può fare riferimento tranquillamente a questo veramente splendido video The Pile of Matchboxes Which Can Learn, in cui viene spiegato questo esperimento che è stato fatto fisicamente nel 2017 e che spiega in qualche modo dal punto di vista pratico come funziona MENAS. Andando qui su Wikipedia, quello che troviamo è una spiegazione di quello che è stato fatto da Donald Michi nel 1961, in cui ha costruito praticamente un sistema per applicare da un punto di vista pratico il sistema dell'intelligenza artificiale, in particolare l'apprendimento con rinforzo, per utilizzare un gioco che è il gioco del tic-tac-toe, cioè il Notes and Crosses, oppure il gioco che noi conosciamo come TRIES. Quindi abbiamo la nostra OPS, un attimo, abbiamo il nostro schema e cominciamo a fare la nostra partita. Quindi, insomma, mettiamo questo qui, uno risponde in questo modo, si mette questo, qui si risponde in questo modo, qui si risponde così, via dicendo, e niente, la partita è finita, patta. Ora immaginate di giocare, di dover implementare un sistema contro il quale giocare. Quindi volete in qualche modo andare a realizzare un applicativo contro il quale giocare a tic-tac-toe. Ora, si potrebbe fare una strategia basata su degli algoritmi ben precisi, cioè codificare in qualche modo tutte le possibili mosse e dire, benissimo, se l'utente mette la X qui, tu devi mettere qui, e via dicendo. E si potrebbe fare in questo modo. Oppure si potrebbe utilizzare un meccanismo di apprendimento automatico, basato appunto sul machine learning. Quindi utilizziamo proprio l'intelligenza artificiale con un reinforcement learning, cioè un apprendimento basato sul rinforzo, per far sì che il nostro sistema possa apprendere come lavora, come lavora un sistema di questo tipo. Donald Michi, quello che ha fatto, è stata proprio una cosa di questo tipo, cioè ha realizzato sostanzialmente una serie di scatole, ognuna delle quali, come si può vedere in questo schema, contiene, qui si vede un po' di meno, contiene esattamente all'interno del, ecco, sulla facciata della scatola, la rappresentazione dello schema di gioco. Ha codificato sostanzialmente tutti i possibili scenari di gioco. Questi sono solamente con due mosse, questi sono con quattro mosse, e via dicendo. Quindi ha delle scatolette in cui sono state rappresentate tutte queste matchboxes. Se si fa il conto di quante sono le matchboxes, bene, si arriva a un totale di 304 matchboxes, che sarebbero molte di più se per caso si partisse con un altro schema iniziale. Però diciamo, diamo per buono questo, cioè Donald Michi ha costruito esattamente 354 scatole, e su ognuna di queste scatole, sulla facciata della scatola, ha rappresentato quella che era la configurazione di gioco. Quindi, ad esempio, come abbiamo visto nello schema precedente, questa è una configurazione di una scatola, questa è una configurazione di un'altra scatola, e via dicendo. All'interno di queste scatole cosa è presente? Beh, all'interno di questa scatola sono presenti dei semini colorati. Per quale motivo dei semini colorati? Il sistema è questo, cioè, nello schema del tic-tac-toe, ad ognuno di questi quadranti è stato assegnato un colore. Ad esempio, questo è il blu, questo è il rosso. Fast forward, quindi abbiamo uno schema in cui ad ognuno di questi quadranti è stato assegnato un colore ben preciso. Quindi, nelle scatole che Donald Michi ha costruito, in ognuna di queste scatole, sono presenti tanti tassellini colorati, tanti bottoncini colorati, quanti sono le caselle vuote. Quindi, ad esempio, in questo schema qui ci sarà un blu, un rosso, un viola, un celeste, un verde, un giallo e un grigio. Non saranno presenti questi perché questi due sono già stati riempiti. Questo avrà un rosso, un celeste, un verde e via dicendo. Quindi, per ognuna di queste scatole che sono state rappresentate qui, sono contenute all'interno di questa scatola questi semini colorati. Ora, cosa succede? Il sistema Menas, quello che fa è, quando gioca, prendere direttamente dalla scatola corrispondente alla configurazione di gioco, uno di questi semini a caso. Quindi, immaginate appunto che all'interno di questa scatolina qui siano presenti quindi in tutto 3, 6, 7 semini, viene preso a caso uno di questi semini. Se ad esempio viene pescato il semino giallo, significa che Menas, quello che andrà a fare, sarà posizionare il suo simbolo, quindi in questo caso ad esempio il cerchio, qui nella posizione corrispondente al giallo. Quindi che succede? Che Menas comincia a giocare. Quindi immaginiamo appunto di avere uno schema di questo tipo. Quindi Menas gioca per primo, quindi viene presa la scatola dove c'è appunto un semino per ogni colore. Supponiamo ad esempio che venga pescato il verde, quindi ad esempio viene pescato, mettiamo qui i colori che vengono pescati, quindi viene pescato il verde, e quindi Menas mette il cerchio qui al centro, corrispondente al verde. Il concorrente quello che fa ad esempio è mettere una x qui. A questo punto Menas prende la scatolina corrispondente a questo schema qua, che conterrà quindi solamente questo colore, questo, questo, questo e questi ultimi tre, e verrà pescato un colore a caso. Ad esempio viene pescato, non so, supponiamo il nero, quindi qui mettiamo il nero che viene pescato, e qui viene messo quindi quello corrispondente. Bene, l'opponente quello che fa è replicare in questo modo. A questo punto viene pesa la scatolina con questa configurazione, Menas pesca, e randomicamente ad esempio supponiamo che si peschi questo valore qui, e quindi Menas mette questo qui. Vabbè, l'ho messo di questo colore, facciamolo sempre, quindi abbiamo pescato questo, così lo scriviamo qui, e viene messo qui. A questo punto che succede? Che l'opponente mette questo e fa il tris, quindi ha vinto. Quindi in questo caso che significa che Menas ha perso? Come comunicare a Menas, quindi questo fatto qui? Bene, nelle scatoline all'interno delle quali, quindi sono state, diciamo, le scatoline che hanno prodotto questi come risultati, quindi il verde, il nero e il blu, a queste si attraggono questi semini, quindi non vengono rimpiazzati questi semini. Quindi in qualche modo la percentuale di questi colori da quelle scatoline scompare. Nel caso in cui invece Menas vincesse la partita, questi semini vengono rimessi all'interno della scatola e a questi se ne aggiungono altri. Quindi immaginiamo che Menas, ad esempio, abbia vinto la partita, se ne mettono non soltanto uno, ma se ne aggiungono a questi altri due. Quindi se ne mettono un totale di tre. Quindi in questo caso se ne metteranno tre, tre, tre. ognuno nella scatolina giusta. Quindi che significa? Che in qualche modo ci saranno delle configurazioni che saranno più probabili, o meglio, ci saranno dei colori che sarà più probabile pescare rispetto ad altri, proprio perché ce ne sono di più. E questi sono di più laddove ci sono delle configurazioni vincenti per Menas. Quindi facendo un grandissimo numero di partite, quindi giocando molte volte, quello che succederà è che all'interno di ogni scatolina comincerà ad esserci la prevalenza di alcuni colori rispetto ad altri. La prevalenza di questi colori farà sì che quando Menas andrà a pescare casualmente il colore della scatolina, pescherà quello che tendenzialmente porterà a una configurazione di successo. Quindi, senza aver in qualche modo, come dire, programmato nulla all'interno di Menas, avendo semplicemente rinforzato quello che è stato la vittoria di alcune partite, in automatico quello che succede è che Menas tenderà ad avere, in alcune configurazioni di gioco, la presenza di semini che porteranno tendenzialmente a una vittoria. E statisticamente quello che si vede è che appunto, giocando un grandissimo numero di partite, alla fine Menas riesce ad avere un trend di vittorie. Cosa importante, la partita potrebbe anche finire in pareggio. Nel caso in cui finisce in pareggio, il rinforzo positivo va comunque dato a Menas, perché di fatto non ha perso. E quindi non vengono dati tre semini, ma viene dato solamente un semino come rinforzo appunto positivo.